Al quindicesimo esce Saia ed entra Odifreddi, ultimo cambio, rimane poi solo in panchina il nostro secondo portiere Il sole sta tramontando, ecco il nuovo che va all'invio Andiamo ragazzi c'è ancora tempo, bravo il Comu, forze fresche La palla adesso, ai Comu, Radu, Grego La palla recuperata dal Laini Fuorigioco Dicono che era buono Lo rivedremo anche questo, batte il nostro Andrea Palla lunga, ai Comu spizzica, Sasso, gol di Sasso Al diciassettesimo, 3 a 2, bravo Sasso Grazie